5, 4, 4, 3, 2, 1 Intitolato Love Me Like You Do Al numero 5 Love Me Like You Do di Halle Goulding Mentre al numero 4 questa settimana Homey con Cheerleader E' in salita dalla posizione numero 4 alla posizione numero 3 la canzone di Francesca Michelin, L'amore esiste L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome L'amore non ha tolto, l'amore non ha ragione L'amore batte i denti, l'amore scalda il cuore Può renderti migliore, cambiarti lentamente Ti dà tutto ciò che vuole e in cambio non ti chiede niente Può nascere da un gesto, da un accenno di un sorriso Da un saluto, da un esparmio, da un percorso condiviso L'amore non ha un senso, l'amore non ha nome L'amore va negli occhi, l'amore schiarda il cuore L'amore batte i denti, l'amore non ha ragione L'amore non ha un senso, l'amore non ha nome Questa settimana New Entry nella Chart Italia In posizione numero 2, Marco Mengoni con Essere Umani Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te, ma che splendore che sei nella tua fragilità e ti ricordo che non siamo soli a combattere. Nuova entrata in posizione numero due, questa settimana il nuovo disco di Marco Mengoni, Essere umani, mentre al numero uno si riconferma Feather, featuring Weezy con Goodbye. E' la Goodbye, la canzone di Feather, numero uno questa settimana nella Chart Italia, ovvero la classifica dei dischi più venduti in Italia questa settimana, in onda su Video Mediterraneo e su Radio Mediterraneo. Noi ci sentiamo domani con la classifica dei dischi più venduti in Inghilterra. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1